buongiorno buongiorno sono irriconoscibile ma io sono davide mosconi alterini e oggi è sabato 8 aprile 2023 alle ore 16 e 54 adesso vi farò vedere un posto veramente meraviglioso la pieve romanica di gropina in provincia di arezzo state pronti perché è una roba veramente meravigliosa sono venuto qui per fare le foto a 360 gradi le fotosferiche sono appena stato al ponte buriano quello che è stato dipinto nel quadro più famoso del mondo la gioconda di leonardo da vinci è sempre in provincia di arezzo naturalmente e oggi è una giornata piovosa purtroppo è già da ieri sera che l'acqua mi insegue ma io sono un combattente e quindi vado avanti allora vi faccio vedere tutto il centro storico di questa pieve romanica che è veramente una cosa meravigliosa state pronti perché davanti a me c'è un ascero e sembra di essere in una favola guardate che meraviglia che è l'italia in ogni angolo guardate che spettacolo vi prego di condividere le immagini guardate che meraviglia non vorresti stare anche voi in un posto magnifico come questo guardate che giardino tutto curato nei minimi dettagli ma andiamo verso la pieve romanica meravigliosa aspettate che devo prendere i guanti perché ho credo che sicuramente pioverà vabbè ormai ho fatto l'abitudine guardate com'è curato tutto curato nei minimi dettagli meraviglioso 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 la pieve romanica state attenti qui siamo nel val d'arno quindi loro ciuffenna guardate che meraviglia spettacolare 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 leggiamo un po di storia la pieve di san pietro a grofina è certamente una delle più belle e interessanti della nostra regione e per questo è stata dichiarata monumento nazionale l'attuale costruzione risale al periodo fra la fine del dodicesimo e l'inizio del tredicesimo secolo in una pietra del campanile che appare edificato posteriormente alla chiesa è incisa la data del 1233 a una facciata in pietre conce di macigno dove risalita lo stemmo papale di leone decimo 1522 e un'abside semicircolare ricoperta di lastre di pietra irregolari arricchita di arcatelle e colonne l'interno si compone di tre navate separate da archi a tutto sesto che poggiano su dieci colonne monolitiche con capitelli variamente scolpiti uno diverso dall'altro con figure simboliche tratte da bestiari o dai vangeli oltre ad allegorie pagane cristianizzate di grande interesse e lambone semicircolare del nono secolo poggiante su due colonnine intrecciate di gusto longobardo gli scavi archeologici testimoniano che la pieve di grofina sorge sui resti di due chiese più antiche una paleocristana del quinto e sesto secolo costruita su preesistenti strutture romane e una seconda di epoca longobarda che era un rifacimento e un ampliamento della prima citata in una donazione carolingia del 780 ecco qua naturalmente i borghi più belli d'italia ecco qua 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 guardate che meraviglia grazie a tutti 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 wow wow grazie a tutti 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 no grazie a tutti grazie a tutti